Le relazioni pericolose, un convegno dedicato a quei rapporti che non funzionano, che creano tensioni, litigi, fratture o peggio ancora come la cronaca racconta violenze e spesso morti. A Pescara gli psicologi aprono le porte alla comprensione di quei meccanismi che portano al pericolo. Generalmente si tende proprio a considerare le relazioni come fonte di pericolo e in realtà facendo un passo indietro ci rendiamo conto di come noi siamo tutti piccoli ingranaggi che singolarmente possiamo più o meno funzionare bene. Nel momento in cui veniamo inseriti in una relazione di coppia questo nostro ingranaggio va ad interagire con l'ingranaggio dell'altra persona e non sempre il tutto avviene in maniera sinergica. Nel momento in cui questo avviene si sviluppa un'energia, una funzionalità della coppia meravigliosa. Nel momento in cui invece questo non avviene perché il nostro ingranaggio funziona male o perché in qualche modo ci sono degli aspetti che a noi sono sconosciuti, che non conosciamo e di cui non abbiamo ben consapevolezza, vanno ad unirsi con la struttura mentale, con la struttura di personalità dell'altra persona e questo può portare a delle conflittualità interne. Alla persona e alla relazione stessa che poi possono provocare disagi a tutti i gradi, a tutti i livelli. Come detto la pericolosità è insita in noi stessi. Alcune combinazioni relazionali possono creare mix dannosi o pericolosi. Come accorgersi allora quando siamo protagonisti di una relazione insana, gli esperti si rivolgono a tutte le coppie.